Secondo capitolo, Selene Cazzo, sono tre giorni che mia madre non è a casa. Il frigo è ormai vuoto. Ho cucinato tutto quello che era rimasto. Probabile che in quella sbobba ci sia finita anche roba scaduta. Nemmeno un goccino di latte per sgranocchiare qualche biscotto. Finiti pure quelli, comunque. Cazzo. Sbattolanta del frigorifero e filo in camera mia. Mi brontola lo stomaco. Lancio via la felpa, mancando miseramente la sedia, e mi butto sul letto sfatto. Chiudo gli occhi e respiro piano, cercando di calmarmi. Torno tra qualche giorno, amore. Sono via per lavoro. Ecco cosa c'è scritto sul fottuto post-it che mi ha lasciato appeso a quel maledetto frigo. Nient'altro. Nemmeno due spicci per fare la spesa, per una pizza. Niente. Merda. Scaglio da qualche parte pure le scarpe. Poi, con uno scatto mi alzo e vado alla scrivania. Frugo tra migliaia di disegni sparsi e qua e là alla ricerca di un foglio bianco. Sposto una montagna di acquerelli e una quarantina di schizzi, prima di riuscire a trovare un foglio più o meno intonso. Butto per terra i vestiti accatastati sulla sedia e comincio a disegnare. È l'unico modo per non spaccare tutto. Spremere la rabbia sulla carta. La matita è il mio pugnale. Oggi sono particolarmente ispirata. Quindi decido di aggiungere un nuovo disegno alla mia collezione sugli dei greci. Con un gesto nervoso sposto una ciocca di capelli rossi che però continua a ricadermi sul volto. Poi mi arrendo e decido di regarli in uno scignono sconcio e malfatto. Impugno la mia arma preferita, quella verde acqua tutta mordicchiata, e comincio a tracciare ogni singola goccia di dolore sul foglio non proprio bianco. La figura spunta piano piano. Ares, il dio della guerra. Perfettamente nel mood. Senza pensarci un attimo, la matita viaggia da sola. Non ho bisogno di fermarmi a pensare. La mano traccia e ritraccia linee che ho imparato a memoria. È come se mi guardassi dall'esterno. Stanca, infastidita, incazzata a morte. Una specie di trance. Quando ho finito, il disegno mi restituisce il mio stesso sguardo. Rabbia cieca. Ce l'ha con me. Non mi ha chiesto lui di venire al mondo. Non ha chiesto di essere disegnato. Non mi ha chiesto di avere quegli stupidi capelli rossi. Non vuole essere costretto a combattere battaglie che non ha cercato. Ma a me non interessa. Tanto, il volto è sempre lo stesso. Dopo anni, ho quasi imparato a non odiarlo. Amore, sono tornata. Sono sdraiata sul suo letto. Le cuffie nelle orecchie mi isolano dal resto del mondo, mentre la mia canzone preferita degli Imagine Dragons mi risuona a palla nella testa. Un tocca sana per i miei timpani. Mia madre tenta di entrare nella stanza, ma la porta è chiusa a chiave. Tesoro, ho portato la cena, apri. Il volume è alto, ma io sento benissimo le sue parole. Continuo a ispezionare il soffitto, alzando ancora un po' il volume. La porta vibra leggermente. Chiudo gli occhi e respiro piano. E la mentele di mia madre si uniscono alla canzone che continuo ad ascoltare in loop, senza sosta. Diventano sussurri indistinti, sillabe inutili, fuse con la melodia perfetta del mio pezzo preferito. Almeno per ora. Tra qualche giorno mi sarò già stancata. La porta smette di vibrare. Ha smesso. Si deve essere arresa. Uscirò più tardi a mangiare gli avanzi che mi lascerà nel microonde. Alzo ancora un po' la musica. Il silenzio è assordante. Adesso. Puoi portare questi piatti al tavolo otto, per favore? Sono le 23.59 e la gente non sembra volersene andare da questo ristorante del cazzo. C'è una coppietta di sfigati che si è seduta alle 20 ed è ancora lì, con il dolce praticamente intatto. Si accarezzano, si scambiano effusioni disgustose. Io vorrei solo andare a casa. Anzi, vorrei solo uscire sul retro e fumarmi una stramaledetta sigaretta. Ho bisogno di una boccata d'aria. La puzza di fritto sta diventando soffocante. Annuisco rivolta al capo. Si rivolge a me in modo mellifluo, come se gli facessi un favore ogni volta, a servire quegli stupidi piatti. Ho la sensazione che ci provi. Ma magari è solo suggestione. Meglio per me. Sgobbo di meno e guadagno di più. Onesto, no? Porto al tavolo otto due filetti di carne al sangue. I clienti sono gentili. Forse è un po' troppo. Ricambio, sfoggiando il sorriso più falso che ho nel repertorio. Mentre torno in cucina, penso che mi stanno sicuramente guardando il culo. Non me ne frega un cazzo. Senza farmi vedere dal capo, sguscio fuori dalla porta sul retro. L'aria è fresca. Fine settembre. L'odore dell'estate sta sparendo per lasciare il posto alla stagione più bella dell'anno. Prendo le sizze. Nel pacchetto ne è rimasta solo una. La accendo. Faccio qualche tiro sbogliato. Non so perché sono uscita a fumare. Forse volevo solo trovare una scusa per togliermi di dosso l'odore del locale. Prendo il cellulare. E come al solito mi metto a scorrere tra i vari profili Instagram. Alla ricerca di qualcuno che possa anche solo lontanamente assomigliare a lui. Ormai li conosco a memoria quasi tutti. Ho una buona memoria. E questo mi aiuta. Ma la lista di persone che assomigliano abbastanza, non quanto vorrei, diventa sempre più grande, confusa, indecifrabile. Non mi aspettavo certo che fosse facile. Ma speravo che dopo cinque anni avrei fatto qualche passo avanti. Invece mi ritrovo sempre al punto di partenza. Sento il capo strillare da dentro la cucina. Sicuramente non ce l'ha con me. Non urlerebbe mai con me. Ma è meglio non tirare troppo la corda. Butto la cicca ancora a metà e la pesto con il piede. Un altro paio d'ore e sarò fuori da questo inferno. Selena mi dispiace. Ho le mani legate, davvero. Il prof mi luma con quella sua faccia da cucciolo bastonato con cui ha conquistato tutte le mie compagne. Ma loro sono delle oche. Con me non attacca. So benissimo che le sue mani sono libere, molto più di quello che vuole far credere. Prof, non potrò essere qui tutti i martedì. Se scrivessi all'amministrazione... Ti direbbe lo stesso, Selena. Mi interrompe lui, sistemando le cose nella sua borsa. Lasciami provare. Penso appoggiata a un banco, le braccia conserte e una guancia stretta fra i denti. Sono stato chiaro prima. Per poter sostenere l'esame è necessario adempiere all'obbligo di frequenza. La questione non è opinabile. Dice, sorridendomi nel modo più caldo che gli riesce. Non attacca, bello. Ricambio con una smorfia e lo ringrazio. Raccolgo le mie cose in un batter d'occhio ed esco dall'aula senza salutare. Sento il suo sguardo premere sulla mia schiena. Ma poco mi importa. Dove la ritrova una studentessa che fa tante storie per dare un maledetto esame? Fuori dall'aula c'è Ceci che mi aspetta, appoggiata al muro. Non ho proprio voglia di parlare. Speravo fosse già andata a casa. Ma evidentemente oggi l'universo si è impegnato per farmele girare per bene. Le faccio l'occhiolino e senza fermarmi mi dirigo verso l'uscita. Lei raccoglie il suo zaino alla velocità della luce e mi raggiunge saltellando. Missione fallita, Houston. ora sì che abbiamo un problema. Quindi? Mi chiede, cercando di stare al mio passo. Non riesco a seminarla. Niente, rispondo sbrigativa, sperando di chiudere la conversazione. Figuriamoci. Ma gli hai spiegato che è per lavoro? Sbuffo. Marca male. Ho le mani legate, Selene. Lo sapevi, Selene. Non si può fare niente, Selene. Lo scimmiotto, cercando di copiare il tono imperioso con cui spera di intimidire i suoi alunni. Ceci ridacchia e io mi rilasso un po'. Rallento, accennando un sorriso. Dai, allora lo darò anch'io il prossimo semestre. Tanto non avevo voglia, risponde prendendo le sigarette dalla tasca del suo giubbotto rosso. Mi volto a scrutarla. I suoi lunghi capelli neri, oggi, sono legati in un'attriccia scomposta. Non l'avevo notato. Ma ha cambiato la montatura degli occhiali. Non devi farlo per me, Ceci. Posso dare un esame da sola, per una volta. Ribatto, accondiscendente. Dopotutto lei è sempre gentile con me. Dovrei smettere di fare la stronza. Ne voglio bene. Fa spallucce, mentre si porta la sigaretta alla bocca. Non è divertente senza di te, Selene. Questo posto è già una merda così, dice, sputando una nube di fumo. Vuoi? Chiede, porgendomi il pacchetto. Il mio sguardo rimbalza dalla sua mano ai suoi occhi. Sì, ha proprio cambiato montatura. Le sta bene questa. Le fa gli occhi ancora più grandi e dolci. Scuoto la testa, prendendola per un braccio e ricominciando a camminare verso casa.